Un'altra cosa che non ha alcun senso è che siamo sposati e non ci comportiamo come tali. Dimmi, che cos'hai in mente, cowboy? Ammettilo, sei colpita. Sì, hai ragione, lo sono. In effetti c'è un'atmosfera magica. A noi, al nostro viaggio e a quello che ci aspetta. Che c'è? Forse è davvero la nostra luna di miele. Cazzo, non ti muovere. Va bene, hai i suoi ordini. No, non mi scherzo. Sta fermo. Oh no, 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 no. Che fate? Esposito, Ryan! Tornate qui! Ragazzi, no! Tornate qui! Ritiro quello che avevo detto. Non è affatto la nostra luna di miele. Non è affatto la nostra luna di miele.